Volete i crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto ilcine in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione Bene ragazzi, qui è ilcine e oggi siamo qui tornati con un super pack opening, speriamo di trovare qualcosa Io ho fatto 32 paccati per incominciare, comunque durante questo episodio andremo appunto a continuare a mettere dentro l'SBC giocatori Quindi ci metterò un bel po', vedrete sicuramente soltanto le cose un po' decenti che ho trovato Speriamo in un ipotetico Toti, anche se con circa 100 pacchetti più o meno non è che riusciremo chissà a far che cosa Io continuerò tutto il fine settimana, questo video dipende da cosa troverò, lo farò uscire in caso settimana prossima Ok, cominciamo subito ragazzi, apriamo il primo pacchetto, vai Primo pacchetto aperto, speriamo in qualcosa Ok, glowa Non è walkout, non è walkout rega C-O-C e o-Zil, questo è o-Zil, vabbè dai Vai Pacchettino Glowa, 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 glowa E-I-F, è walkout, sì, buonanotte, walkout Coso a D-Bernardo Silva di nuovo Vabbè dai, lo metto nell'SBC, forza Su, 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 su Dai Torreira, dobbiamo andare veloci qua perché c'ho troppi pacchetti da fare, adesso appena abbiamo dei doppioni, niente, non è un cavolo, buttalo, vuoi via tutto, buttalo Ma, ma uno deve giocare a un gioco del genere? Che non carica neanche i giocatori? Ma come si fa? Ma io mi chiedo, ma come si fa? A fare un gioco così, dove i server vanno una volta sì e cinque volte no Vabbè ragazzi, riavvio, riavvio, va bene, riavvio Oh signore mio, che, che, che parto, che fatica, non è neanche un, che schifo, schifo tutto subito Sto schifoso qualaido, lanzini di menta, ti prego, ti prego, ti prego, un toti, per favore, un toti, glowa, un toti Non è neanche walkout, via Perché continua a darmi così? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ai server, uno sta qua tre ore Adesso devo ricraftare ancora, mortacci loro Vai, pacchetto zinco orari, forza Glowa? È walkout? È scambiabile? È scambiabile, mi sa, francese, DC La porte, il ventesimo la porte, mortacci loro Uno come fa giocare? Uno come fa giocare? Oh dai, vai, 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 apriamo sto pacchettino Ladro, laido, schifoso Glowa Ok È walkout È son 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 Oddio, son Son È la prima volta dopo 600 pacchetti che lo trovo sto son Mamma mia Son Aldo Raga, quanto è bello, son Aldo Io posso anche chiudere così, son contentissimo Fine della storia Fine della storia Son Aldo Son Aldo mio Oh mio caro vecchio amico Woodcoin Bets Siamo tornati per spacchettare un po' Adesso vi faccio vedere un attimo le varie sezioni Molti di voi già lo sapranno C'è la sezione betting, double stakes, higher and lower Che sono tutti dei giochetti dove si possono biddare i crediti Che voi o depositate tramite il gioco Oppure potete anche ritirarli qua Oppure potete prenderli e comprarli direttamente dal sito Vi ho fatto già vedere come si ritirano i crediti dal sito Quindi con il metodo degli oro Di avere comunque sempre un secondo account E di utilizzarlo appunto con questi crediti Per continuare a fare compravendita sempre di più E cercando di non eccedere al limite massimo Che è 100k al giorno di ritiro Perché se no altrimenti rischiate assolutamente il ban Perché la EA vi guarda, monitora tutti come il grande fratello È l'occhio del grande fratello Quindi, pacchetti, andiamo a spacchettare un po' Andiamo su questi road to the final pack Dai, primo pacchettino ragazzi È andato No, c'è il volume What the... Dai, primo pacchettino Coman, ok Quanto vale Coman? 364.000 E il pacchetto costava 200k Mi sembra Quindi ci siamo fatti 164.000 crediti Quasi quasi Io mi fermerei qua No, scherzo Almeno facciamone altri due o tre Vai, secondo pacchettino Forza Forza Outcome Bets Mi hai dato 164.000 Adesso dammi qualcosa Di più Carlos Questo non vale niente Mi hai tolto 100k Scusami Mi hai fatto guadagnare 66 64k solo allora Dai, terzo pacchetto Mi sembra che abbiano messo i toti dentro Quindi Anche se non ci sono ancora i pacchetti Probabilmente c'è la possibilità di trovare un toti Gomez Papu Gomez Che dovrebbe variare qualcosa E invece ci fa riperdere 25k Vabbè, dai Io spero che adesso mi faccia trovare qualcosa di importante Per favore Qualcosa di buono Iori 9k Vabbè Mmm Ogni volta È sempre la stessa storia Eh, per favore Non lo guardo per questo pacchetto Non lo guardo Ti prego Fammi trovare un toti Qualcosa di importante Un'icona Qualsiasi cosa Marchinhos 280k Bene, bene, bene 80k presi Quindi abbiamo Più o meno con le cose di prima Che avevamo guadagnato alla fine 30k massimo Siamo a 110k di guadagno Io di solito Mi fermerei qua Prendo circa sui 200k E buona Coman ancora 391 Basta Mi fermo Mi fermo Finisce qui Prendo i miei 200k 300k che ho guadagnato 130k Qui abbiamo guadagnato 191 Quindi in pratica Abbiamo intorno Ai Vabbè Circa 320k Crediti guadagnati Alla fin fine Mica male Quindi adesso Li passerò subito Sul secondo account Li andrò a investire subito Per evitare che magari Che cavolo ne sapete Che l'EA Fai warning Degli account E quindi Voi rimanete Senza crediti Perciò investiteli subito Quando li ricevete Io adesso andrò a fare Sta cosa qua E ci rivediamo Col video Oro crescente Non va Cos'è che è? Ma perché mi dai gli errori E poi mi fai mettere La squadra? Vabbè Non so Non so cosa dirvi Vabbè Aspettiamo 6 ore Aspettiamo 6 ore Così almeno Finiscono i toti Ok Glova Oddio Non me lo dire E' toti Oddio E' toti E' kevin E' bruin Kevin 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 E' 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 kevin È Kevin È Kevin Ma com'è possibile Che sto tremando raga Sto tremando È Kevin Mamma mia Mamma mia raga Mamma mia raga È Kevin È Kevin È Kevin È Kevin È Kevin È Kevin Non ce la faccio raga Non ce la faccio 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 È Kevin No eh Non farmi fare niente Non farmi toccare niente Che qui se no lo scartiamo Mamma mia che bello che è Kevin Che bello che è Kevin Come Geyer di fianco 88 di velocità contro 50 di velocità Mamma mia raga No 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 io non ci credo raga Non ci credo 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 88 velocità 96 tiro 99 passaggio 96 dribbling 82 difesa E 93 di fisico Kevin De Bruyne Entra nel club Ti voglio bene Madonna raga Oddio Delict Sniperato 899 Forza ragazzi Madonna che cartina questa Che cartina Questo si rialza di sicuro 100% si rialza Almeno non so quando far uscire questo video Però entra nel club Fine dei giochi ragazzi Io ho dato tutto per questi toti Mi è Mi è Diciamo Ritornato Kevin De Bruyne Ho preso Delict Ho trovato Roberson Son Un po' di gente Ho craftato Bernardo Silva David Luiz Tutte cose Fatte insieme ai pacchetti Quando trovavo Quando trovavo dei giocatori Che purtroppo non vi ho fatto vedere Perché tantissimi si sono persi Ho registrato ore e ore di video Non sono riuscito a montarlo A montare tutto 24 ore di video Robbe del genere Quindi Abbiate pietà di me ragazzi Fermi tutti Perché ho già capito la situazione Sicuramente ci sarà un sacco di gente Che dirà È fake Cina De Bruyne La reazione Roberson È tutto falso Adesso vi faccio vedere Con il joystick in mano Il Cina del futuro Vi fa vedere Dopo aver giocato la WL Dopo aver giocato le Division Rivals Vi faccio vedere Che cosa succede Se io vado nel mio club Perché questo è il mio club Ok Andiamo su ATT Schiacciamo Triangolo Schiacciamo Triangolo Ancora De Bruyne Delict Roberson Ok Adesso li mettiamo in squadra Schiacciamo X Ovviamente non va Perché devo schiacciare prima option X Qui non faccio tagli Andiamo su così Facciamo così Prendiamo Delict Poi andiamo così E prendiamo anche Roberson Poi andiamo a prendere Anche il nostro Sonaldo Che sono riuscito a trovare No L'ho scambiato con Roberson Vedete che sto facendo un sacco di cacciarate Mortacci loro Faccio così Rischiaccio questo Roberson lo piazzo qui Dove è andato il mio cavolo di Delict Mortacci sua Adesso mi arrabbio Ok In Cina del futuro E full retard Allora adesso vi faccio vedere De Bruyne Primo proprietario Non scambiabile ovviamente Con le partite giocate Schiaccio qui Non scambiabile Primo proprietario 38 gol 20 assist In 48 partite Adesso vi faccio vedere I dettagli attributo Poi torno indietro Nei dettagli giocatore Poi torno indietro Nella biografia del giocatore Faccio così Vi faccio andare a vedere Roberson Poi risposto E ragazzi Vi faccio vedere Roberson Tac Tac Faccio velocissimo Guarda adesso Sposto De Bruyne In TD Sposto De Bruyne In DC Sposto De Bruyne In TS Sposto De Bruyne In ES Risposto De Bruyne In Portiere Tac Quindi questo ragazzi Non è fake Mi dispiace dirvelo Ma non è fake Sono io È il mio account Delict Sniperato 899 mila crediti 48 partite giocate Anche lui Scambiabile Numero di proprietari 3 Quindi ragazzi Spero di aver risolto Ogni dubbio Di chi ancora Dice Anche qua Sonaldo Primo proprietario Non scambiabile Quello che ho trovato 29 gol fatti 28 assist Sono delle bestie Ragazzi Questi giocatori Rimuovo il cursore Adesso schiaccio cerchio Per l'ultima volta E usciamo Ragazzi Non so se mi avete visto Un po' cotto In questi video Qui che ho fatto Come al solito Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like E un commento Se vi va Noi ci vediamo presto Proveremo questo Kevin De Bruyne Totti Un saluto dal Cina E bella lì Nooo Nooo